buon mattino con gesù fratelli vi abbracciamo forte ma forte 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 gloria di a giambi strong strong forza gloria fortissimo allora siamo qui una squadra di quattro moschettieri stamattina per iniziare la giornata con gesù gloria di andiamo leggiamo primo re 17 da 1 a 5 elia il tisbita uno di quelli che si erano stabiliti in galahad disse ad akab come è vero che vive il signore dio di israele che io servo non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola la parola del signore gli fu rivolta in questi termini parti di qua vai verso oriente e nasconditi presso il torrente kerit che è di fronte al giordano tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi di là che ti diano da mangiare egli dunque partì e fece secondo la parola del signore andò e si stabilì presso il torrente kerit che è di fronte al giordano primo re 17 1 a 5 gloria a dio pensavo stamattina infatti stavo pregando chiacchierando e pregando di alcune cose serie insieme a john per questo che abbiamo invitato e ci è venuta la storia di elia ma in senso di l'ubbidienza l'importanza dell'ubbidienza e stava parlando dell'ubbidienza e quanto è importante nella tribolazione che viene quindi la domanda da porsi che sarebbe il tema di quello che voglio dire in questi piccoli dieci minuti l'importanza è quanto è importante l'ubbidienza dalla chiesa di ciascuno di noi come gruppo come famiglia come chiesa come squadra che possiamo essere anche due persone matteo 18 20 quanto è grande la squadra due persone due o tre e allora quanto è importante l'ubbidienza quanto è importante individuare su chi è l'unzione per l'evangelizzazione e quindi seguirlo nell'evangelizzazione su chi è l'unzione della saggezza e quindi appoggiarsi su quella persona per le decisioni perché perché diciamo l'unzione di dio quanto è importante l'ubbidienza scoprire chi è la guida al pastore non dico pastore di un gruppo di un tante persone ma anche due persone c'è un pastore paolo se c'è un leader pastore di dove chiamarlo lo stesso paolo era in team work in italiano in squadra con barnaba e poi con sila e tutto filava a gonfiovere finché questi questi assistenti prima barnaba poi sila diciamo ubbidiva all'unzione del signore attraverso paolo ora non sto parlando di ubbidienza alla mia chiesa nostra chiesa no no non ci fraintendete qui non sto parlando della nostra chiesa dallo spirito sto parlando di in generale l'insegnamento per ogni chiesa ogni luogo anche non importa di quale religione appartenete fratelli che ci ascoltate non importa non è questo un modo di dire fratelli della nostra chiesa dovete obbedire di più non è questo sto dicendo sto dando l'insegnamento generale d'accordo allora perché ci saranno fratelli durante la tribolazione che viene che dovranno rifugiarsi dovranno cercare ottenere la protezione di dio la donna nel deserto apocrisse 12 14 e come che si trova e dopo trovate che si fa ok adesso abbiamo la nostra protezione siamo nel posto che dio ci ha guidati perfetto eccoci qua dove dove siamo nella foresta montagna nella valle siamo un gruppo di 2 di 5 di 10 di 20 che saremmo così nella tribolazione siamo gruppi di 10 di 20 di 50 di 100 non lo sappiamo noi vediamo che capitolo seguente qui primo re 18 vediamo che li sta parlando con un servo del signore questo serve si chiamava abdia era serviva a capa l'anticristo il re anticristo però era un discepolo nascosto segreto e lui nutriva aiutava 100 profeti di dio in gruppi di 50 e nascosti in delle caverne due caverne separato vediamo il primo re 18 quindi tribolazione non sappiamo che saremo in una foresta in una montagna certamente tutti i fratelli qui dalla zona o che vorranno venire dalla zona dove ci troveremo noi operiamo a zona brasilia argentina cilio raguai paraguai operiamo questa zona e quindi fratelli che vorranno spostarsi con noi prendono l'aero la nave cioè più facilmente l'autobus e andremo su una montagna sulla valle in un foresta in un villaggio non non sappiamo dove dio ci guiderà e allora però ci saranno fratelli che do via non ci sarò non è che per forza devo essere io leader ci mancherà viate sono leader in giro meglio di me ovunque siete da scoprire chi è leader va bene che infatti nella nostra la nostra missione divisa in tante piccole comunità in tutto il mondo comunità di due persone anche anche due persone c'è sempre un leader va bene allora a scoprire dove l'unzione di dio o che supponiamo che adesso dio ha detto appunto abbiamo letto capitolo 17 ha detto a elia vai nel ruscello kerit e i corvi ti daranno a mangiare due volte al giorno di poterci immaginiamo elia che dice e calma però che cibo è che si mi portano il cibo ma che cibo c'è cappuccino c'è la brioche e la carne e che carne io io preferisco mi piace il pollo non mi piace il manzo mi piace il manzo non mi piace l'agnello cioè sai come tu vai in un posto di cercare si andiamo a fare i missionari tale tale paese alla magari c'è un fratello che ti aspetta poi quando arrivi la come l'albergo come la pensione e questo quell'altro fratello ubidienza quando arrivi in un posto io mi ricordo sono andati in india ed ero un missionario di esperienza sapevo barcamenarmela da solo però ogni volta che andiamo in un posto dovevo sottomettermi ai fratelli che erano la magari con meno esperienza di me però avevano più esperienza nel luogo e le volte che non l'ho fatto sono dovuti chiedere perdono scusa e poi ricominciare di nuovo in umiltà io ho sbagliato tutti sbagliamo quindi vi voglio risparmiare sbagli quando andate in un posto sottomettetevi alla persona che la ricevervi a meno che non avete un contratto spirituale io vengo io sarò il capo io vengo io sarò il vescovo io secondo me deve neanche partire se parte con quest'idea però se non avete un contratto così tu vai là ti togli le scarpe il luogo è sacro ubidienza quindi elia non ha detto a dio sì d'accordo andiamo avanti qui verso il 6 verso 6 e i corvi li portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera e beveva al torrente ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese allora la parola del signore li fu rivolta in questi termini alzati va ad abitare a sarepta dei si doni alzati vai dai sarepta io ho ordinato una vedova laggiù che ti dia da mangiare egli dunque e dunque si alzò e andò a sarepta ecco benissimo allora e poi lì chiede alla donna infatti incontro la vedo e gli dice oggi ho solo un pezzo di pane che sto morendo e dice dammola a me caspita sembrava egoista però era un po la prova per vedere provarla se questa qui era la vedo perché era comandata di aiutarlo quindi il pane era prima per elia elia non era una persona maleducata era una prova come quando abramo doveva offrire isacco quindi quando quando siamo in comunque situazione la cosa prima da fare obbedienza al signore allo spirito santo alla parola la prima cosa il signore ci prova è l'obbedienza provò a abramo provò i discepoli provò gesù sulla croce mi dice paolo gesù si fece obbediente fino alla morte quindi chiunque vuole attraversare la tribunazione in modo vittorioso si prepara e obbedire a chi a dio si grazie ma dio non lo vedi però in matteo 25 nella parabola delle capre a sinistra delle pecore a destra mattia 25 verso 30 e gesù dice che il fratello vicino a noi che ha bisogno eccetera quel fratello è gesù quindi dio ti correggerà ti rimprovererà ti guiderà ti castigherà ti incoraggerà attraverso fratello vicino a te quindi questa storia in primo re 17 praticamente vediamo che l'obbedienza di elia è essenziale non solo per salvare la sua propria vita perché era perseguitato ma anche per dare un messaggio all'intera nazione di israele amén amén gloria signora infatti ovunque andremo tempo della fine tribunazione profetizzata non possiamo pregare che non venga passeremo alla tribunazione e allora prepariamoci armiamoci di umiltà di obbedienza senza l'ubbedienza se elia avesse detto ma io non mica posso andare a mangiare la carne che mi portano gli uccelli io voglio mangiare all'italiana scusa è come faccio io senza maccaroni senza pasta al forno senza lasagna non è possibile mica si può servire gesù senza lasagna scusa e invece si come ha fatto gesù senza lasagna quindi obbedienza se non dice mangi il cibo che portano i corvi vai a sarete a mangiare farina e olio nient'altro focacce si signore subito ecco questo che ci manca la chiesa mondiale anche la nostra ma sto signore mi ha dato messaggio mi ha detto che è per tutti quindi cerchiamo di armarci di umiltà e di obbedienza al signore e il signore parla dai suoi fratelli non aspettiamo un angelo del cielo con la tromba signore parla tra il suo fratello peccatori vicino a te attraverso quell'idiota come me attraverso quel fratello non molto intelligente che mai possa essere io o tu e sottomissione e la chiave sottomissione sottomettersi sì ma fratello qui è un peccatore tu sei anche peggio però lui è così la cosa Dio ti ha parlato di lui a Balaam Dio lo ha addestrato insegnato corretto guidato attraverso un'asina va bene numeri capitolo 22 gloria a Dio a meno un abbraccio fratelli signore aiutaci ad essere umili ad essere ricettivi ad essere sottomessi a non essere superbi orgogliosi aiutaci a scoprire sotto chi siamo ebrei 13 17 ebrei 13 17 chi ha la chiesa l'unzione di guidare e non sto parlando di me parlo in generale ovunque siete siate una benedizione per quella chiesa cattolica protestante ovunque siete se siete la nostra gloria a Dio va bene perché qui ci cliccano in tanti su internet parlo a tutti un abbraccio fratelli Dio ci benedica con l'ubbidienza e allora potremmo essere dei piccoli profeti piccoli insegnanti piccole guide se cominciamo ad ubbidire a chi spesso volentieri a uno che è più giovane di noi non intelligente come noi non un'esperienza come noi è lì che è così è così che il Signore ci prova Dio benedica amen un abbraccio alleluia avanti per Gesù gloria al Signore grazie Signore